ciao a tutti ragazzi e ragazze benvenuti o bentornati in un nuovo luoghissimo allora come state? io spero tutto 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 molto 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 bene io sto abbastanza bene solamente mi vedrete un pochino di cina perché sto amorendo di cina e poi come state passando l'estate mi schiocca sempre la spalla a testa, non so perché comunque è sempre che mi perdo in molte chiacchiere quindi oggi magari andrò a gritta alla soda perché sarà davvero meglio, durano sempre un'eternità poi fatemi sapere se mi piace quanto mi piace molto allora questo sarà un video acquisti di Shane ho da poco fatto un ordine da Shane e ho comprato un po' di cose però prima di questo, prima di iniziare il video e contribuire al tuo rilassamento volevo dirvi due cosine allora intanto anche se muori da ritardo scusatemi ringrazio tantissimo Emanuele e Sofia per le vostre donazioni per il canale su Paypal io davvero vi ringrazio, 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 ringrazio moltissimo e qualsiasi tipo di supporto per me davvero mi aiutate tantissimo per contribuire al canale ad avere una qualità migliore, a mettere da parte qualcosa per una qualità migliore infatti volevo ringraziarvi personalmente nel video siete stati davvero gentilissimi e giocissimi e dirvi comunque che tutto ciò che voi ragazzi mi donate andrà utilizzato ovviamente come giusto che sia per il canale quindi quando raggiungo una cifra tale da magari che ne so comprare quando raggiungo una cifra per il nuovo microfono che ho in mente di comprare oppure per nuove luci oppure per una nuova qualità video e li compro insomma e davvero il vostro supporto mi aiuta tantissimo tutto, 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 tutto se vuoi supportare il mio canale trovi tutte le informazioni sull'info box e intanto io ti ringrazio comunque per esserti iscritto al mio canale attivando la campanellina ovviamente per accedere tutto tutte le notifiche insomma per il nuovo video e va ora passiamo al video vero e proprio allora quindi ho fatto un ordine sul sito Ginsight un po' di tempo fa in realtà quasi un mese fa e mi sono arrivate oggi le cose oggi è 29 luglio credo sì anzi 29 luglio e appena mi sono arrivate subito non ho resistito alla tentazione di ovviamente provarle quindi in questo video andremo a rilassarci insieme e a provarle insieme ho un capo giallo addosso e allora è questo vestitino qui con le moniche fatte così io ragazzi lo adoro vi farò ovviamente vedere sicuramente vedere una clip qui allora te lo descrivo un po' mentre appunto te lo sto facendo vedere indossato è un vestito stretto stretto in vita e che scende molto largo sotto come una specie di volant e delle maniche applicabili anzi non applicabili perché sono incollate il vestito alla cerniera quindi non può essere taglia unica credo ci sia una S una M una L eccetera a me questo vestito è piaciuto tantissimo credo sia il vestito più bello di tutti i miei acquisti inside anche se devo dire la verità ci sono stati degli acquisti flop in questo video acquisti flop che alcune cose che in realtà non mi sono molto piaciute che sono molto secondo me camuffate esagerate dalle foto perché non sono minimamente come appaiono appunto in foto questo vestito l'ho pagato intorno ai 15 euro in realtà non ricordo benissimo i prezzi dei vestiti però ovviamente per la qualità mi scende pesantissimo perché per la qualità l'originalità potete avere un bel capo un bel prodotto a pochissimo prezzo se sapete insomma come comprare e quindi questo è un vestito pece con questi fiori arancio un po' principesco di quelli che piacciono a me insomma comunque fa un caldo altrui ragazzi io a casa mia non ho nemmeno l'aria condizionata e nemmeno ventilatore nemmeno lino cosmico quindi ti faccio vedere altro ti faccio semmai vedere alcuni pezzi che andrò a mettere insieme ce li ho tutti qui allora ti faccio vedere intanto semmai le cose flop in realtà le cose flop sono i doppini le cose flop sono i doppini e un vestito che fa un po' largo però vabbè non è colpa loro se fa largo a me però purtroppo non avevano alcuna taglia nemmeno quindi allora il doppino che ti faccio vedere purtroppo sta molto largo è questo qui con tutte queste pallette 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 allora qual'è il problema di questo doppino saprete sicuramente se mi seguite su instagram e se non mi seguite è un male ragazzi vi lascio il link qui sotto il mio profilo che a me le pallette così piacciono da morire mia madre appena l'ha visto mi ha detto ma perché ti metti queste cose da vecchia no non sono da vecchia no mamma non sono da vecchia comunque non guarda in questo video però non sono da vecchia e appunto sì queste pallette molto molto belle il fatto brutto secondo me è che davvero sembra una maglietta vecchia non posso darli sordo perché è tutto un pezzo cioè sul sito non era così sul sito non era minimamente così quindi questa mi cade molto 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 larga e sembra davvero una maglietta vecchia cosa che sul sito assolutamente non era così sul sito sembrava stretta in vita e cadeva un po' a volante invece ha avuto una bruttissima sorpresa diciamo poi un altro doppino che ti faccio vedere e che è un mezzo troppo anche questo in realtà perché è molto trasparentino però è davvero molto 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 bello alla fine giusto per il fatto che è un po' trasparente lo intosterò sicuramente spesso perché alla fine è molto 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 fresco e poi aveva forse anche un po' quello stile giapponesi che piace a me e il fatto secondo me è che ha delle bretelle un po' di pettose so se potete vedere un po' di spilazzi però per 4 euro allora vedete la luce molto diversa perché mi si stava scaricando la lampada quindi stavo parlando di questo doppino alla fine è molto bello sicuramente l'avrete visto dalla del cuore un doppino che non avevo ancora indossato ma vedrete sicuramente nella peppa è questo qui con questi lacci allora è molto molto legato secondo me adatto alle occasioni alle coppie le impattite e questi lacci è molto 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 bello secondo me solamente che non l'ho ancora provato io non ti so dire se mi sta bene o no perché mi fa davvero molto molto la sensazione di caldo atroce quindi non l'ho ancora provato e lo vedrete comunque con la lip è molto bello e visto che stiamo parlando di tappa ora tanto parlo di tappa ti faccio vedere anche i pantalocini allora il primo che ho preso ci sta ancora il cartellino del mio cartellino ed è uno shorts normale ad alta e questo è molto bello il nero più che altro mi servivano shorts a vita alta e coprente più che mai coprente e appunto quasi un po' quello stile a vita alta che piace molto e quello in realtà è un pochino strettino quello in realtà è un pochino strettino invece ora ti faccio vedere questo qui che a me piace è un casino ragazzi questo l'ho già sporcato ma no ha un filetto pensate vero l'ho già sporcato questo l'ho già sporcato oggi in gelato infatti appena finisco il video vorrei smogliarlo perché da per me c'è un casino questo vestito già bellissimo questo qui è molto secondo me ma anche molto vintage invece questo stampo viene più largo in vita e la cosa non mi dispiace però mi sento un sacco il cioccolato anzi cioccolato la crema pasticcera è un po' 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 ti lascio il pezzo falde per ultimo anche se il pezzo falde era questo però purtroppo il pezzo falde è un po' l'archino allora un'altra cosa che mi è piaciuta molto ed è fresca per tutti i giorni insomma per il supermercato eccetera questa tutina questa tutina che a me piace davvero davvero tanto vabbè ancora non te la riesco a far vedere bene a questi fiori qua e vabbè è un'archino per il mercato già si vede che la scarsa qualità però ho già per uscire tutti i giorni mi mancava qualcosa di elegantino carino però per tutti i giorni insomma con una qualità nulla elevata ecco e vedrete tutto sicuramente nella clip comunque stanno abbagliando i cani perché nel mio palazzo ovviamente si fanno i cani e poi li lasciano da soli per tutto il giorno in un appartamento di 5 metri quadri quindi ci credo che poverini abbagliano sempre magari si sentono un poco ecco molto molto basso e non registro di nuovo questo video allora lì per l'ultimo capo che ti faccio vedere e questo è stato proprio un capo bellissimo ragazzi mi sta bellissimo vabbè però sì riconosco che mi sta un po' il po' bene è questo qui questo vestitino qui allora voi direte ma che cos'è un qualcosa della nonna l'hai rubato a tua nonna no? no è un vestitino super è un vestitino super iper carino vi giuro è una cosa fantastica lo starete vedendo sicuramente in una clip sembra ammassato agli orecchi non lo so poi cosa che tolì comunque questa è luce a tutti i capelli da lione e ho provato anche dei nuovi prodotti per i capelli che in realtà non è che mi sono nato piaciocchiati e vi farò vedere tutti i nuovi prodotti e vi faccio vedere la pazzoforte di questo video ossia 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 questo vestito poi io lo definisco il vestito di flora delle wings perché in realtà mi sento un po' mi sento un mix tra flora e stella questo vestito guarda con l'occhio questo vestito qui già è un vestito principesco da morire è il mio pezzo forte e lo potete trovare su Shein e credo l'ho pagato intorno ai 25 euro 22 euro credo il problema di questo vestito è che mi sta abbastanza largo larghetto quindi mi incrossa con un pochino qua che già lo vorrei essere grossato quindi è un po' il nip di questo vestito però ragazzi mi piace un casino ma proprio tanto 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 è principesco da morire ma ne vogliamo parlare è tutto rosa così per i lini e dietro è fatto così però il miglior vestito non lo fatte nessuno ed è questo qua che ve l'avrò fatto ed è questo qua che ve l'avrò fatto vedere in un angletto sicuramente allora ragazzi ragazzi io spero che il video vi sia piaciuto e comunque ci rivediamo a un prossimo video in un prossimo video fatemi sapere se questo video vi è piaciuto fatemi sapere se questo video vi è piaciuto se vi piace la tipologia e poi ci vediamo all'altro prossimo video ciao 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 ciao